Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, patriarcato e miti greco-ebraici, la grande mitologia greca e l'altrettanto grande mitologia ebraica. E la vediamo un po' in un articolo di Yakov Levi. Nome e cognome sono ebraici, anzi Levi è il nome più importante che possa dire un ebreo e credo che sia uno psicoanalista. L'articolo è da Giacobbe a Ulisse una coazione a ripetere e l'articolo ovviamente me lo manda l'amico Gemini 060606. Sono articoli tutti molto molto interessanti, questi che mi vengono inviati, molto interessanti anche l'articolo di Yakov Levi. Attenzione però, la mitologia greca e mitologia ebraica sono dei pozzi senza fine del patriarcato nascente. del patriarcato nascente. Ma si dà il fatto che per il grande ebreo Freud, fondatore della psicoanalisi, il patriarcato c'è sempre stato. Lo scrive in tot e metabù. In tot e metabù, già detto tante volte da me, Serafino Massoni, questa faccenda che in tot e metabù, ma anche in tutte le sue opere, Sigmund Freud, dice che l'umanità inizia col patriarcato. Il patriarcato non c'è mai stato. Quindi il patriarcato sin dall'origine, ovvero l'umanità patriarcale sin dall'origine, è caratterizzata da tutte le nefandezze che noi conosciamo nel mondo patriarcale, che oggi è il mondo patriarcal capitalistico. E che vediamo un po', queste nefandezze quali sono? Che c'è un nucleo, tanti nuclei familiari sin dall'inizio, comandati da un'orribile, un'orribile bestione, un'orribile bestione che terrorizza tutti con la minaccia di castrare chi non sta sotto di sé. Questo orribile pater familias che tiene sotto tutte le donne, una moglie, le moglie, le figlie, i figli, tutti sottomessi. Poi a un certo punto i figli si stanchano di tre sottomessi, si coalizzano e di nascosto massacrano il padre. Orribile come nasce il nostro patriarcato, secondo le fantasie patriarcali di coloro che lo descrivono. Io mi permetto di ricordarvi, cari amici, che questo è il mio ultimo romanzo, La stirpe del serpente, nel quale parlo appunto del passaggio dal patriarcato al patriarcato ai tempi della guerra di Troia, anche se storicamente il patriarcato può essere sorto in tempi diversi a seconda dei luoghi, perché allora non c'era mica la televisione. Non è che le cose si venivano a conoscere in tempo reale, perché un evento da un luogo si spostasse ad un altro luogo della terra ci potevano volere anche secoli. Bene, vediamo un po' qua Iacov Levi. Quindi, attenzione, come sappiamo, scrive, lui scrive come sappiamo, come sappiamo, per superare il complesso di Edipo, la generazione di giovani, crescendo, si stacca dalle madri per identificarsi con i padri, come sappiamo. Questo è sempre stato vero dall'inizio della storia dell'uomo e fine ai nostri giorni, questo è stato vero, vero dall'inizio della storia dell'uomo e fine ai nostri giorni, perché Iacov Levi, come Sigmund Freud, c'erano all'inizio della storia dell'uomo, c'erano centomila, centocinquantamila, duecentomila anni fa, perché le società organizzate datano appunto di 80, 100, 150 mila anni fa e tutti i reperti di quella grande antichità ci parlano tutti invece del matriarcato, perché sono state rinvenute soltanto le statuette delle grandi madri, le Veneri, non sono state trovate statuette di divinità maschili, solo divinità femminili e poi abbiamo un'ampia documentazione, abbiamo, va bene, e dunque questo è sempre stato vero dall'inizio della storia dell'uomo e fine ai nostri giorni, però quando poi però subito dopo analizza questa faccenda qua del dissidio perenne che c'è tra padri e figli che si ammazza una vicenda, il Dio cristiano in fin di conto manda suo figlio in croce, mettetela come vi pare, se era un Dio onnipotente mi si dice a me, sì ma l'ha fatto per amore nei nostri confronti, e vabbè, ma se è onnipotente la retenzione dell'umanità la poteva ottenere anche con mezzi meno cruenti, meno crudeli, senza mandare suo figlio in croce, va bene, è tutto un ammazzarsi tra padri e figli a livello cosmologico, mitologico, mica dico a livello reale, non dico mica a livello, però le fondamenta del patriarcato sono tutte insanguinate, dunque torniamo al nostro simpatico Jakov Levy, simpatico veramente, è interessante, perché pesca, pesca, pesca non soltanto dal pozzo della mitologia greca, ma pesca dal pozzo della mitologia ebraica che è molto, molto, molto più interessante, molto più interessante di quella greca, e chissà perché Freud non ci è andato per lui a pescare nel pozzo della mitologia ebraica, il complesso di Edipo, Edipo è greco, il narciso, il narcisismo è greco, l'ebraismo ce ne dà di eventi molto di più dalla mitologia greca, allora prima dice, come sappiamo, per superare il complesso di Edipo, come sappiamo, chi lo sa, mica detto che sia così, la generazione dei giovani si stacca dalle madri per identificarsi con i padri, però, disse subito dopo, dice, non dobbiamo dimenticarci che qui stiamo trattando di una società strettamente patriarcale, dove le donne sono poco più di un oggetto di possesso, eccetera, 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 ma una società strettamente patriarcale, ma allora tu, se parli di una società strettamente patriarcale, dovresti avere anche il concetto di ciò che è matriarcale, perché non si può avere il concetto del dolce se non si conosce l'amaro, non si può avere il concetto del bello se non si ha il concetto del brutto, comunque qua ho portato collo e gli è costretto a parlare di una società strettamente patriarcale e analizza a fondo le vicende di Rebecca che sembra innamorata di suo figlio, Rebecca innamorata di Giacobbe, un complesso ediplico all'inverso. Perché? Perché innamorata del figlio? La madre incoraggia inconsciamente le tendenze incestuose del figlio maschio come compensazione alle frustrazioni della sua vita coniugale. Poi si tira in ballo Ulisse che con il cavallo di Troia penetra nella città, la città di Troia è paragonata alla madre e Ulisse penetrando nella città di Troia fa l'amore con la madre, violenta la madre e poi sarà condannato a dieci anni di peregrinazioni. Cari amici, è tutta una lotta la famiglia monogamica patriarcale per affermazione degli stessi teorici del patriarcado, i grandi psiconaristi, è tutta una battaglia. Io vi ho già parlato dell'imprinting, no, la famiglia auto-perpetua da sé tutte le proprie contraddizioni. La famiglia, è pensare che la famiglia monogamica patriarcale è finalizzata ad un'unica operazione, consentire al maschio, all'uomo, di avere la certezza della paternità, di sapere che quel determinato bambino è figlio del proprio seme e la scoperta che il seme fa parte della perpetuazione della specie, io l'ho definito l'ingresso del peccato originale nell'umanità. Quando nasce, quando si passa dal matriarcato al patriarcato, l'umanità perde l'iden originario e questo idem originario era il matriarcato. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato, grazie a Gemini 060606 e a tutti tanti saluti da Serafino Massoni.